Ad una certa ora sentivamo Sofia! Paolo! Era mia madre che veniva a cercarci nelle vigne dove andavamo a giocare ma prima che riusciva a trovarci si faceva bene perché qui il vino è la nostra identità e questo Montepulciano d'Abruzzo è testardo e gentile come chi da sempre coltiva questa terra Grazie per la visione!